Tocca a me, tocca a me! Calmi, calmi, tocca a me! Devo presentare Pulsar, il sistema modulare di CAM, tecnologico, funzionale e maneggevole. Non è vero! È verissimo, pochi gesti per utilissime funzioni. Alzi questa leva e le ruote anteriori piroettano. Premi il pulsante 360 gradi e si bloccano. E con Via Vai System Reverse cambi la seduta. Da fronte mamma per bimbi fino a 12 mesi a fronte strada per i bimbi fino a 36 mesi. E quando ti fermi? Ebbè, quando ti fermi c'è il pulsante P che lo frena e poi chiuso, è compatto, è leggero. Ma noi vogliamo andare in macchina! Eh sì! Anche Pulsar con area 0+, il seggiolino per bimbi fino a 13 kg. Comodo e sicuro con l'optional area base per il fissaggio in auto. Allora veniamo con te! Sì, dai! Magari con Twin Pulsar, il passeggino per gemelli e fratellini di diversa età. Con il telaio più corto tra tutti i passeggini a due posti. Personalizzabile acquistando separatamente uno più ceste e seggiolini auto. Insomma, CAM, da oltre 40 anni, innovazione, sicurezza e stile made in Italy. Scoprite tutte le novità su camspa.it. CAM, il mondo del bambino! CAM, il mondo del bambino!